Dopo il tragico incendio parla Gianni Medilla, presidente merito del Consiglio regionale, promotore della legge regionale che nel 2000 trasformò la pinnetta d'Avalos in riserva d'Annunziana. Fino al 2000 noi avevamo un parco urbano, ricordo che l'assessore di Sipio alla fine degli anni 70 si era molto adoperato in questo senso, nacque l'idea da vari scienziati, agronomi, urbanisti, botanici, architetti che di anno in anno affinavano una proposta. Io ero consigliere regionale, c'era una legge quadro sulle aree protette che disciplinava l'istituzione delle riserve regionali dei parchi e stavano nascendo in quel momento molte riserve. Erano le bellezze regionali, venivano elevate di rango e diventavano riserve regionali e affiancavano quelle statali. Quella proposta di legge fu approvata nel 2000, poi fu modificata nel 2001 perché la gestione fu affidata al comune di Pescara e quindi nacque questa riserva. Sono passati 21 anni, ci sono state molte inadempienze, devo dire da parte di molte giunte comunali, per esempio non si è mai nominato un direttore, un comitato di gestione, cioè un gruppo di persone esperte che desse luogo ad una tutela attiva della Pineta con delle proposte molto belle che tra l'altro circolavano fin da allora. Per esempio ne presento una, perché non mettere all'interno della Pineta un luogo dedicato alla poesia, alla letteratura. Si chiama Pineta D'Annunziana perché era un luogo caro a D'Annunzio, tutti sanno che quando D'Annunzio tornava a Pescara la prima cosa che faceva dopo aver visitato la mamma era quella di andare nella Pineta, ma soprattutto la Pineta è legata a tanti pescaresi che d'estate la frequentavano per scampagnate. Il comune ha avuto dei ritardi, dei ritardi che non sono addebitabili a questo o a quell'amministratore, ma sono dei ritardi generali che vanno superati. Io mi auguro che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che è molto legato alla Pineta, sia in grado di dare vita non solo all'insediamento di questi organi, ma anche alla predisposizione del piano pluriennale di interventi sulla Pineta e anche all'attuazione del piano di assetto naturalistico. Naturalmente, questo anche dopo quella terribile tragedia dell'incendio che ha interessato uno dei comparti della Pineta.